Fine dei giochi, il Lecco è ora ufficialmente in Serie B, in barba perentorietà, criteri infrastrutturali e regole infrante. Il Consiglio di Stato si è espresso e lo ha fatto respingendo i ricorsi di Foggia e Perugia, confermata la sentenza del Tarlazio, niente da fare per il club rossonero. Per i Lombardi si spalancano dunque le porte della cadetteria e il capitolo si chiude qua con l'ultimo grado di giudizio amministrativo. Al Foggia toccherà ricominciare dalla C e domenica sarà già tempo di derby allo Iacovone di Taranto, una decisione che lascia amarezza nell'intero ambiente rossonero ed in particolar modo nel club che non a caso oggi dirà la sua. Alle 17 torna infatti a parlare Nicola Canonico, il presidente e patron della società rossonera, ha convocato in fretta e furia una conferenza stampa presso la Sala Fesce dello Stadio Zaccheria. Inevitabilmente toccherà il tema relativo ai ricorsi respinti, ma non potrà fare a meno di chiarire anche quelle che sono le sue intenzioni per il futuro. A cominciare dal mercato, giunto alle sue ultime battute, c'è tempo fino al 1 settembre alle 20 per completare l'organico e entro quella data occorrerà fornire a Cudini quei tasselli mancanti, ad occhio e croce almeno 4. Ora però in casa rossonera è tempo di leccarsi le ferite. Con la decisione del Consiglio di Stato svanisce del tutto la possibilità di rincorrere ancora la Serie B. Da oggi per il Foggia la testa dovrà essere solo rivolta al campo e al Taranto.